Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città, buon inizio settimana, mese di ottobre che è cominciato e comincia a Torino con il sole come si è concluso settembre, ci attendono belle giornate anche per i prossimi giorni, ma intanto iniziamo a vedere la situazione della viabilità del tempo parleremo tra poco, vi segnalo sempre con l'aiuto delle nostre mappe due divieti di transito molto ravvicinati quest'oggi, fino alle 17 in via Barbarù nel tratto compreso tra via dei Mercanti e via Sant'Omaso e poi fino alla mezzanotte invece in via Sant'Omaso nel tratto tra via Barbarù e via Monte di Pietà, si tratta di divieti di transito per lavori edili. Per la giornata di oggi vi segnalo anche dei lavori di potatura alberi con ovviamente delle conseguenze soprattutto sul parcheggio in zona, in Corso Francia nel tratto tra Piazza Statuto e Piazza Massaua e in Piazza Nizza nel quartiere Lingotto per quanto riguarda il lato dei numeri pari della piazza. Quelle che sono invece le postazioni degli autovelox per la giornata di oggi sono in Corso Giulio Cesare, Corso Grosseto e Corso Trapani Prudenza quindi se passate in quelle zone della città. Dicevamo della situazione del tempo, è una bella giornata anche oggi, le temperature sono leggermente scese rispetto all'ieri soprattutto, al fine settimana, ieri abbiamo avuto una massima di 28 gradi circa nelle ore più calde della giornata, questa mattina siamo sui 20 gradi, la solita brezza da est che espira nelle mattinate torinesi, umidità intorno al 50%, pressione in leggera diminuzione, per oggi dobbiamo attenderci allora un'altra bella giornata, cielo sereno lungo tutto l'arco di quest'oggi e avremo temperature massime su valori che si attestano intorno ai 25-26 gradi nelle ore centrali del pomeriggio, ma come detto il bel tempo durerà ancora per i prossimi giorni. Per quanto riguarda gli appuntamenti istituzionali di oggi vi ricordo soltanto che è lunedì quindi ci sarà il Consiglio Comunale come sempre a partire dalle 12 in diretta web sulla nostra home page e andiamo a vedere invece le notizie di Torino Click, l'agenzia quotidiana della città perché di il Consiglio Comunale si tratta anche in questo caso, è stata proposta dalla Giunta una manovra di contenimento, una manovra di bilancio di contenimento per quanto riguarda i prossimi mesi, si attesta intorno ai 19 milioni di Euro, sono 19 milioni di Euro che verranno ricavati dalla città attraverso la riduzione delle spese e della gestione della macchina comunale, la parte principale circa 7 milioni di Euro verranno dalle riduzioni delle spese del personale, ovvero dai premi per la dirigenza, ci saranno riduzioni per quanto riguarda i fondi delle attività assessorili e anche il Consiglio Comunale avrà il proprio budget leggermente decurtato in accordo con la città e con le circoscrizioni. I dettagli di quanto è compreso nella manovra li trovate nell'articolo di Torino Click, vi segnalo sempre su Torino Click e sempre parlando di costo della vita, abbiamo la rilevazione dei prezzi al consumo per quanto riguarda il mese di settembre, inflazione al 2,4%, scesa dello 0,4% rispetto al mese di agosto di quest'anno, ma rispetto al settembre dell'anno scorso appunto siamo su un aumento dei prezzi del 2,4%, abbiamo avuto un segno negativo, quindi sono scesi a settembre i prezzi dei trasporti, rispetto all'anno scorso l'aumento maggiore è stato riscontrato sostanzialmente nei combustibili, quindi nel gasolio per riscaldamento, nel gas e nell'energia elettrica, il dettaglio lo trovate nell'articolo di Torino Click. Andiamo a vedere adesso dalla nostra home page la notizia che abbiamo scelto questa mattina tra quelle che sono pubblicate in prima pagina, si tratta dell'ultima edizione di Torino Web News, il nostro settimanale culturale che dopo la grande parentesi dedicata a Mito nel mese di settembre e questo mese torna ad occuparsi delle altre realtà culturali in città, allora la prima edizione post-Mito della settimana scorsa riguarda la moda in Italia, 150 anni di eleganza, una mostra che trovate ancora alla reggia di Venaria, qui abbiamo il reportage della nostra troupe che è andata a vedere questa mostra. Andiamo a vedere adesso la situazione delle telecamere del traffico, questo è Corso Agnelli, angolo Corso Cosenza in direzione sud su Corso Agnelli, lo vedete il traffico è abbastanza intenso, ci spostiamo con un'altra telecamera all'area del Martinetto, nella zona ovest della città su Corso Regina Margherita dove tutto scorre tranquillo, non ci sono problemi in entrata e in uscita da quel punto della città, questa invece è Piazza Aderna in direzione sud e quindi Corso Giulio Cesare verso il centro, vedete che abbiamo un po' di auto che stanno per rimettersi nella rotonda e infine chiudiamo con il Ponte Sassi dove la situazione è assolutamente tranquilla, tutto scorre senza particolari problemi. Bene, è tutto per questa mattina, allora grazie ancora per averci seguito, di nuovo un buon inizio di settimana da parte nostra e grazie anche a Paolo Mosso per la messa in onda del giornale, a tutti voi una buona giornata.